Anche lei ha superato la fase del preascolto e questa sera in gara per accedere alla prefinale si chiama Beatrice Pata, ha 17 anni e calabrese. La Calabria ci presenta un pezzo dei Queen, giusto? Ben arrivata. Infatti oggi lei, vieni qui Beatrice, vieni al centro, vieni qui al centro dietro la striscia blu. Lei oggi quando ha detto il titolo del brano io l'ho guardata un attimino interdetta, cioè una ragazza di 17 anni che ci canta i Queen. Eh sì, è una mia passione seguire il rock queeniano, poi è una delle canzoni più importanti, quindi spero che vi piacerà la mia interpretazione.